Il nostro obiettivo è costruire del co-marketing fra le realtà territoriali raccolte per ambiti su tutte le regioni per poterle poi spendere in ambiti di tour operating ufficiale. Comprende 5 regioni, la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Campania. Abbiamo messo insieme le pubbliche amministrazioni orizzontali e l'imprenditoria che Ivi opera. 20 comunità hanno aderito nella loro interezza. Il testimonio è Marco Marzocca che è qui con noi a raccontare il nostro territorio su progetti di turismo esperienziale interterritoriale. In pratica cosa stiamo facendo con Marco? Stiamo promuovendo un tour che parta dalla Sicilia e arrivi fino alla Campania facendo delle tappe eccellenti del sud Italia per un mercato statunitense. Statunitense ma anche canadese, insomma tutti quanti gli stranieri che hanno voglia di vivere un'esperienza in Italia. Non soltanto andare a visitare le classiche mete turistiche conosciute ma alla scoperta anche dell'esperienza. L'esperienza che può essere mungere una capretta e vedere come diventa formaggio e latte oppure andare a vedere come i vasai creano le loro ceramiche a vietri oppure andare a visitare proprio i luoghi a parte le bellezze artistiche turistiche e naturalistiche italiane anche a vivere proprio la vita di come vive l'artigiano, come si vive nei paesi d'Italia, come si fa la pasta fatta in casa. Tutto accompagnato da un'idea che è nata così per gioco perché io mi trovavo a fare uno spettacolo in Calabria e da lì è nata l'idea di creare un tour dove due professionisti del mondo dello spettacolo uno sarei io e l'altro Stefano Sarcinelli accompagneranno queste persone che vengono dall'altra parte dell'oceano dal primo giorno all'ultimo giorno intrattenendoli e raccontandogli in modo divertente noi facciamo i comici e questa è la nostra missione cioè rendere divertente e quindi più fruibile tutto quello che andiamo a vivere. Grazie. Grazie.